Sono contento per te e anche per me, siamo felici e contenti, lici e contenti, ma non è contento che uno dice quello è contento, di più, di più, e che c'è più di contento? Ci potrebbe essere contentissimo e più di contentissimo ci potrebbe essere contentissimissimo, contentissimissimo, no, dunque più di contentissimo ci potrebbe dunque. Vediamo un po', ci potrebbe essere che sono talmente contentissimo da sentirmi felice come una sogliola, no, contento per caso, ecco, più di contentissimo c'è contento per caso. Parlare di casualità in termini poetici non è affatto facile, ma se quei due signori, marito e moglie, che noi chiameremo A e B, non avessero festeggiato le nozze d'oro, io non avrei rincontrato lei, che sempre per comodità chiameremo X. Da qui si deduce che A sta a B come il caso sta a X, ve lo dimostro. Dunque A e B, marito e moglie, si sono sposati 50 anni fa, se per qualche motivo si fossero separati la festa non ci sarebbe stata, e in 50 anni di storia motivi ce ne potevano essere, interno e esterno questo non ci interessa, ma ce ne potevano essere. Tipo? Tipo. Guerra di Spagna, piano Marshall, Vietnam, seconda guerra mondiale, Rivietnam, Vietnam di sud, di nord, est, ovest, Gino Bartaliu, Fausto Coppi, Rifausto Coppi, Giro d'Italia, il Tourmalet, il Tour de France, Mike Bongiorno, Corrado, il Fidono di Mike Bongiorno, il Fidono di Corrado, Stiaffa a destra, Stiaffa a sinistra, Galoppini, Galoppini e Cavalli, Poledri. E la critica non attenta a Totò, motivi ce ne potevano essere, e invece il caso ha voluto che loro festeggiassero le nozze d'oro e che X fosse fra gli invitati. Domanda, può un uomo riconquistare in 13 ore la donna amata e perduta? 13 ore, cioè 7 minuti di tempo per rispondere. Può? Se il caso l'aiuta può. Questo è un pesce. No. La porta si è aperta, clac, clac, splac, stà. La sala era piena di gente, chiacchiericci e saluti vari. Piacere Francesco, piacere Francesco, come va? Piacere Francesco, piacere Francesco, come va? Oh, salve, ma... Oh, e la, piacere Francesco, come va? Piacere Francesco, finalmente in quel bailame l'ho vista, laggiù bella come il sole. Ma ho fatto finta di non vederla. Però mi sentivo tutti i suoi occhi addosso qua, qua. Qua, 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 qui, 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 no, qui, no, sì, qui sì, dai. Ah, pugnalami, pugnalami, amore mio. Ah, qui sì, qui sì. Poi finalmente i nostri sguardi si sono incrociati e fu subito Messico. Ragazzi, parlare di Messico fa sempre colpo. Se non ci fosse il problema dell'aereo sarebbe facilissimo. Avrei potuto parlare dell'Umbria, ma in Messico è proprio un'altra cosa. Ricordate, Messico. Ed è proprio discorrendo su Tele Messico che io ho scoperto che lei, la signorina X, non amava il calcio. D'acqua. 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 Perché il caso ha voluto che in un'altra parte del mondo si disputasse un incontro storico fra Post e Telegrafi e Romana Gas, dove lui, il terzo uomo, che noi chiameremo Pi, giocava. Mediano le chiese, portiere rispose. Ma va? Ma pesce. Musica! E ballammo, ballammo. Tami, senti che c'è, lei prima era siusa qua, così. Scusi, balla, andami più stretta, come te lo sai. E ci abbracciamo e ballammo stretti, cioè più o più lato, poi piano piano sempre più stretti, strettissimi, quasi accovacciati, accovacciatissimi, sempre più stretti, strettissimi, strettissimissimi. E dato che eravamo così stretti, ci baciammo. Fu un bacio lunghissimo. In cinema scop, tecnicolo, sussurrao, 3D, 4 piste sonore. Insomma, fu un bacio, titanus. Chissà come baciano postini. Ti timbrano. E pesce? No, non so. Insomma era mia, e io ero suo. Eravamo nostri, nostri e contenti. Ma mentre sbottonavo il suo vestito, un pensiero massillava. Più lo sbottonavo e più mi assaliva. Ad ogni bottone che sganciavo mi domandavo, qual è il problema centrale dello spettacolo? Qual è la poetica esistenziale? Qual è il nucleo storico? Qual è la frase chiave? Quando la vedi nuda capì. Ma pesce trombano. Qual è la storia fritta male? Per prima cosa lei se n'è andata. Molte di voi si domanderanno perché se n'è andata. Dunque lei se n'è andata perché... Boh, non lo so. Le avevo detto anche di portare le valigie. Me le ha portate. Però mi sa anche se le hai riprese. Eppure l'amavo. Anzi, l'amo. O non ho capito io, o non ha capito lei. Oppure non ci siamo abiti nessuno dei due. Forse si sa, ci si può anche amare da lontano. Io ti amo da lontano. Peccato perché ero così contento di averla rincontrata. Comunque sono contento lo stesso. Perché tanto c'è sempre il caso. Il caso ci puoi usare. Sì, il caso sì. Dunque, A e B hanno festeggiato le nostre d'oro adesso. Quelle di platino fra venti e cinquanti anni. Se si sono lasciate per cinquant'anni e tutto quello è successo, perché si danno lasciate nei prossimi venticinque. Oddio, venticinquanti di auto ne può succedere. Tipo? Benissimo. Tipo... Tipo? 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 Tipo?